Ginnastica, 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 qua puoi spizzerirti Va bemolle Guarda Oh Si E' quella vecchia eh E' quella vecchia però lì eh E' quella vecchia, è quella che avevamo fatto in sera, prima Ma aveva i gradini qua Guarda 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 e allora c'è il buco cazzo, eh c'è il buco di là ah certo? però c'è il buco dopo eh se lo tieni in su vedi che viene qua eh di fine stessa, eh è andato fuori lo stesso 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 Questo è un pelo No volevo fare così ma non ho il gancio sotto Palla lì l'ho fatta io E' l'unico passaggio solo il problema è qua che se cadi dentro ti ammazzi Se cadi dietro lì ti sposti la testa là Quanto tempo è che non passiamo? Siamo passati con Luca l'ultima volta Quella lì andava bene L'hai vista quella vecchia? E' il piardone Dobbiamo riempire l'usaggio Con la ruspa Andiamo via alle 2 da qua